Oggi siamo qui in sede in Claypachi a Serie A a Bergamo con il nostro team audio 6 con la rete vendita Italia per una formazione un aggiornamento sui nuovi prodotti lighting usciti da poche settimane. Claypachi ci ha accolto con uno show luci innovativo che risalta le caratteristiche di questi prodotti. Questa show room come vedete è aperta all'IT designer, service, rental, chiunque abbia voglia di partecipare e di vedere e toccare con mano i prodotti installati. La show room di Claypachi è il posto dove voi potrete venire a vedere insieme con noi quello che le nostre nuove tecnologie sono in grado di offrire al mercato. Nella show room troverete tutte le tecnologie più innovative che Claypachi è stata in grado di produrre negli ultimi anni, mentre se avrete tempo e voglia avremo a vostra disposizione anche un museo dove potrete vedere la storia dell'illuminazione. La show room Claypachi è la nostra finestra sul mondo. Siamo sempre pronti a darvi il nostro benvenuto all'interno della nostra show room per mostrarvi tutte quelle che sono le nostre nuove tecnologie e i nostri nuovi prodotti. Oltre ad accogliervi qua dal vivo abbiamo appena integrato un sistema streaming per potervi seguire in tutte le vostre richieste anche nel momento in cui non si ha la possibilità di venire qui in Claypachi direttamente. L'invito che rivolgiamo a tutti è quello di contattarci per organizzare una visita in sede in show room per toccare con mano i nuovi prodotti. Grazie a tutti.